Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo primissimo video della nuova era sul mio canale. Prima di iniziare devo fare le dovute introduzioni perché in questo momento sono a Bologna, sono nella mia nuova casa, ho già iniziato la mia carriera universitaria e come vedete la qualità è particolarmente aumentata grazie al supporto di varie luci che ho comprato e che ho deciso di installare per l'appunto nella mia nuova abitazione. Ora come introdurre questa nuova era per la quale ho cercato di creare hype con quei video che avete visto e che saranno parte integrante della nuova era? Beh diciamo che sarà qualcosa di diverso, saranno soprattutto video diversi e a tal proposito ci tengo a precisare una cosa molto importante. Innanzitutto vi chiedo di vedere questo video fino alla fine per capire un attimo che cosa sarà questo progetto, cosa avrà di diverso rispetto ai video precedenti e qualora non dovesse interessarvi o qualora preferiste i video che portavo prima vi invito tranquillamente a disiscrivervi dal canale perché non solo fate un piacere a voi che non vi trovate nella home video che non interessano ma fate un piacere anche a me non perché vi odi ma perché semplicemente avere iscritti inattivi va a ledere l'immagine del canale e quindi se finito questo video che vi invito a vedere non sarete convinto di quello che sto dicendo vi vi... non sono abituato più a fare video vi invito per l'appunto a disiscrivervi dal canale. Dato ciò io ho qui il telefono, vi sono segnato tantissime cose da dirvi e direi di iniziare subito. Ora la prima cosa di cui vorrei parlare per quanto riguarda questa nuova era sarà l'assenza del format delle Nazlock perché l'assenza delle Nazlock? Perché ragazzi siamo nel 2018, la Nazlock è nata nel 2010 e sono 8 anni che la community poco non fa altro che riproporre Nazlock e varianti di Nazlock non che ci sia qualcosa di male in tutto ciò eh, però sinceramente personalmente mi hanno stufato particolarmente e quindi ho pensato che fosse intelligente portare nuovi format anziché riproporre sempre i soliti gameplay sempre le solite challenge o quantomeno studiarsi un nuovo tipo di gameplay che vada a sostituire questa tradizione che ormai sinceramente sta stufando. Ma per quanto riguarda la questione gameplay datemi tempo che a fine video ne parleremo. La seconda cosa di cui vi volevo parlare sempre inerente ai cambiamenti del canale sarà l'assenza di video giornalieri, più in particolare la presenza di molti meno video all'interno del canale. Questo in realtà è dovuto a svariatissimi fattori e penso siano abbastanza intuibili. Primo fra tutti lo studio che diventerà sempre più presente all'interno della mia vita ma soprattutto anche una rivalutazione che ho fatto del rapporto quantità-qualità di ciò che significa per me YouTube e di tante altre cose che non vi sto qua a spiegare che mi hanno portato a pensare di produrre più video ma con una qualità più alta non solo a livello di editing ma anche a livello visivo come potete vedere dalle luci che ho comprato e dalla nuova qualità video che spero appreziate. Ora voglio affrontare un altro argomento molto più spinoso che è stato l'ultimo periodo del canale, l'ultima parentesi estiva che ha visto la presenza incessante di live sul canale. Ora, le live torneranno o non torneranno? La risposta fino a ieri sarebbe stata no ma in questo momento vista la connessione che ho qua che non è così schifosa come pensavo tenderei a dirvi di sì, le live torneranno non giornalmente ma saltuariamente ma soprattutto non su YouTube. Io lo so che questo nome che sto per dire triggererà molte persone ma inizierò anch'io a streamare su Twitch. Perché streamo su Twitch e non su YouTube? Per un motivo molto semplice che esula tutti i discorsi riguardo al fatto che Twitch paga meglio per dirci. Il fatto è che ho riscontrato nel mio periodo di live stream su YouTube come il contenuto live sia particolarmente e sostanzialmente diverso dal contenuto dei video in quanto in un video c'è un lavoro dietro che nelle live non c'è o che arriva a priori e di conseguenza penso che separare video e live proprio a livello di canale sia una cosa sensata. Ha senso creare un nuovo canale su YouTube dedito allo streaming quando c'è una piattaforma che per lo streaming è molto più attrezzata? Assolutamente no e quindi per questo motivo vi lascio il mio Twitch in descrizione dal quale potrete passare per vedere le live se volete altrimenti boh un posti cazzi. Però se avete voglia fare un account Twitch è molto semplice tanto quanto fare un account YouTube e su Twitch ci sono davvero dei contenuti interessanti in live stream quindi ve lo consiglio a prescindere che poi voi vogliate seguire me oppure no insomma. Chiusa questa parentesi live volevo parlare adesso dei nuovi format che vi porterò sul canale. Ci saranno nuovi format sul canale e saranno tutti tendenzialmente innovativi e mai visti sulla community. Mai visti ovviamente nella forma in cui li porto io, nelle dinamiche con cui li porto ma adesso vi andrò a spiegare il tutto. Ora di nuovi format in tutta questa estate che ho passato a pensare a questo giorno qua ne ho ideati 8, ve ne presento oggi 4. Perché 4 e non 8? Perché alcuni di questi qua, ossia gli altri 4, o richiedono delle attrezzature superiori a quelle che ho adesso o sono semplicemente stati abbozzati o sono in fase di profonda rivalutazione. E il quarto punto in realtà tratta anche di questa cosa. Comunque direi di iniziare con il primo format che ho pensato e di cui avevo anche registrato un episodio prima di decidere di attendere fino ad adesso che è il concept analysis. Che cosa farò nel concept analysis? Sostanzialmente la serie si dedicherà a prendere un Pokémon ad esempio il primo episodio, già ve lo spoilero, è programmato su Del Mis e andare a parlare delle sue caratteristiche e del suo concept in particolare da un punto di vista totalmente originale e che dia un'interpretazione originale di un concept che magari a una prima occhiata o comunque qualcun altro che ne ha già parlato non è riuscito ad individuare. Andrò a trovare cose particolari proprio nel concept stesso del Pokémon senza farmi ingannare dall'apparenza ma andando più in profondità vedendo da dove potrebbe trarre ispirazione quale potrebbe essere stata l'idea originale che ha scaturito la creazione di questo Pokémon. Il secondo format del canale invece è un bijou del canale stesso e lo è stato anche precedentemente non sono i diari, bensì sono le teorie Pokémon. Il format teorie di per sé è molto semplice andrò a prendere degli aspetti controversi del mondo Pokémon e ne andrò a parlare formulando delle spiegazioni riguardo al perché certe cose sono in determinati modi. Ci tengo a precisare che non saranno teorie riguardanti Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, non saranno teorie riguardanti nuovi giochi Pokémon non saranno teorie riguardanti una specifica categoria ma andranno a spaziare su tutto l'ambito Pokémon possibile e inimmaginabile. E soprattutto non sarà il format teorie che tendevo a fare precedentemente di video di 5-6 minuti ma la mia idea è quella di fare video molto più sostanziosi 10-15 minuti di teoria riguardo ad alcuni aspetti del mondo Pokémon che potrebbero avere delle spiegazioni molto interessanti. Ora passiamo al terzo format che è un format che recupera in realtà il nome di un vecchio format ma che si terrà in tutt'altra maniera. Sto parlando del caffè di Luminopoli che precedentemente era il circolo di Luminopoli e che ho deciso di cambiare o comunque modificare per dargli una sorta diventata di aria fresca anche all'interno del titolo. Ora come il circolo di Luminopoli in questo format andremo a trattare delle caratteristiche del mondo Pokémon che non sono inquadrate né nel concept analysis né nelle teorie ma sono caratteristiche diverse e per i quali voglio trattare un approccio diverso. L'editing del video sarà particolare perché non ci sarò io in Facecam ma sarà un editing molto simile ai video teorie che facevo precedentemente quindi con gli effetti particellari le immagini che vanno in sottofondo che spuntano fuori e via dicendo. La cosa interessante secondo me del caffè di Luminopoli è che avrà delle peculiarità a livello di tematiche nel senso che andrò a trattare delle tematiche anguste se vogliamo così dire. Cioè non sarà il classico video chi è il cavo palestra preferito o cose del genere andrà in un certo senso più a fondo riguardo ad alcune tematiche che toccano in maniera incredibilmente forte anche se a volte forse non in maniera così evidente il mondo Pokémon. E il quarto format come vi ho già spoilerato sono i diari i diari che sono un format che ho portato in quel periodo un po' buio del canale nonché mio nonché mio come persona che però andrò a recuperare vi anticipo già che ho scritto il sequel dei diari di rosso e arriveranno sul canale in una certa forma comunque lo stile sarà quello che avete visto per i diari di rosso vi anticipo già che non avranno tutti la stessa atmosfera ma cercherò di dare dello spessore ai personaggi non saranno tutti uguali a quello di rosso i personaggi non saranno tutti rosso ma verranno caratterizzati proprio in maniera diversa a seconda delle caratteristiche che io personalmente attribuisco a questi personaggi in relazione anche magari ad altre storie che ho raccontato sempre all'interno dei diari. L'editing non penso di dovervelo stare a spiegare l'avete già visto nei diari nel caso ve lo andate a vedere e direi che con i format posso fermarmi qui e adesso ragazzi come ultima tematica la questione gameplay ora vi ho già detto che per me il format naslock andrebbe superato e con per me intendo per quanto riguarda il mio canale poi ci sta benissimo che altri vogliono fare le naslock ci sta benissimo che alla gente piacciono a me hanno stufato sento il bisogno di superarle questo cosa vuol dire? vuol dire cercare un nuovo stile di gameplay che non sia la guida che è superata sei volte a meno che non ci sia un nuovo gioco pokemon e con un altro discorso fra parentesi no non porto la guida let's go pikachu let's go e eavy già ve lo dico perché so che poi la gente me lo chiede non deve essere una guida semplice ma non deve essere allo stesso tempo una extreme randomizer naslock con i pokemon ultra dg evoluti che ti fanno fare il clickbait all'istante senza nulla togliere a chi fa questi format perché li ho fatti anch'io e di certo non sono lì a rinnegare soulink e mica soulink ma sento la necessità personale per quanto riguarda i miei interessi e la mia soddisfazione di superare questo format come penso di averci letto perché sono una persona prolista ciò vuol dire focalizzarsi sul nuovo tipo di gameplay che possa interessare davvero le persone come vi potranno sicuramente confermare anche luke e fabio che hanno sentito i miei disastri mentali mentre cercavo di spiegarlo a loro ho in realtà un'idea su come portare un nuovo gameplay l'ho anche sviluppata l'ho anche sviluppata per tanto tempo ma in questo momento ho un blocco e sono in seria rivalutazione della cosa per il semplice fatto che non so se effettivamente può essere interessante non solo per voi che lo guardate ma anche per me che lo gioco o almeno non interessante nelle forme in cui sto cercando di portarlo adesso per questo il gameplay rimane un'incognita del canale io ho anche pensato a un'idea particolare di gameplay che si va a incentrare non tanto sul gameplay ma su alcuni moveset c'è un canale c'è un canale inglese bellissimo che vi linko qua sotto in descrizione che porta dei video in cui fa vedere dei moveset particolari di pokemon scarsi o comunque non utilizzati c'è neanche uno di Farfetch vi linko direttamente quel video lì così ve lo andate a vedere e commentate hashtag divino nei commenti e avevo pensato di fare una cosa del genere togliendo però il fattore competitivo o accantonandolo leggermente preferendo andare a parlare di alcuni tipi di moveset o di alcune combinazioni utili e ottenibili all'interno dell'avventura siccome poi la direzione che sta prendendo il brand almeno per il momento è quella di Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee cioè un gioco che non va ad incentrarsi sul competitivo ma sulla sfida contro la CPU è una cosa che avrebbe senso sarebbe attuale e potrei pensare di farla ma ci sono troppo incognite in questo momento per farla prima fra tutti il DS non so come registrare certe cose e quindi dovrò informarmi però per il momento la questione gameplay è in incognito non me li chiedete perché vi risponderò sempre non lo so allora sul mio telefono io ho detto tutto se mi sono dimenticato qualcosa troverete un commento bloccato in alto in cui dirò quella cosa in cui mi sono oggi non so l'italiano comunque incredibile dicevo se mi sarò dimenticato qualcosa troverete il commento in primo piano io spero che questo video vi sia piaciuto ma non che vi sia piaciuto tanto questo video ma che vi piaccia questo nuovo progetto che sto per portare e che siate contenti di questo nuovo progetto e spero che ne godrete voi più di me se possibile mi scuso se si sente un po' di rimbombo ma è normale la stanza è tendenzialmente vuota e quindi è normale che si sente un po' di rimbombo e niente io vi invito a lasciare un mi piace un commento un'iscrizione al canale e una disiscrizione al canale se non siete contenti o se preferivate i contenuti di prima ci può stare io non mi prendo assolutamente male anzi è una cosa positiva vi invito ovviamente a passare dai social da twitch in particolare visto che è nuovo ma anche da instagram perché alcuni di questi format di cui vi ho parlato avranno dei risvolti particolari su instagram e quindi se potete seguirmi su instagram è una cosa che vi conviene ve lo posso assicurare io non ho nient'altro da dire spero che questo video vi sia piaciuto premete la campanella è fondamentale ho detto spero che questo video vi sia piaciuto dieci volte ho detto dieci volte evidentemente voglio che piaccia questo video voglio ricordarvi che vi deve piacere questo video vabbè sì passate da telegram passate da discord passate dai link in descrizione tutti quanti senza escludere nessuno che altrimenti poi si prendono male e vabbè niente direi che questo video può concludersi qua finalmente è l'auto più lunga della storia quindi vi saluto ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video oh oh sì è vero ecco cosa mi sono dimenticato ve lo dico qua la frequenza di video sarà una alla settimana cioè un video alla settimana circa di domenica però poi vedrò se riesco ad aumentare e vabbè ciao vi lascio stare ciao